Ciao ragazzi, il trick di oggi è la Round the Moon Visto che questa sera vi stiamo insegnando la Round the Moon abbiamo deciso di fare il primo tutorial notturno prima di partire col tutorial però dovete assolutamente saper fare il Nextor abbiamo deciso di dividere il tutorial in due step nel primo step partite con il pallone direttamente sul collo fatelo scorrere lungo la spalla mi raccomando utilizzate le gambe per dare la spinta al pallone in modo tale da farlo salire il più possibile come tutti i trick del freestyle si può eseguire anche dalla parte opposta dovete trovare il vostro lato preferito o di qua o di qua nel secondo step quando vi ritrovate il pallone in questo punto continuate ad osservarlo sempre e passateci oltre mi raccomando quando eseguite la rotazione attorno al pallone guardatelo sempre in modo tale da non perdere il tempo e il movimento è Grazie per la visione! Grazie per la visione!